Nola Sardegna, deposito atomico. Con il sit-in di ieri in Piazza Castello, organizzato da Sadomo De Totus e Friday for Future, si ingrosse il numero delle voci contrarie all'ipotesi di un'isola custodia di scorie nucleari. 14 le aree papabili sulle 67 complessive nazionali individuate dalla SOGIN a gennaio per lo stoccaggio dei rifiuti radiattivi, 4 in provincia di Oristano e 10 nel Sulcis. Una decisione che non tiene conto del referendum consultivo del 2011 e in cui il 97% dei sardi aveva espresso il rifiuto all'installazione di centrali nucleari e di siti per le scorie. Per i promotori dell'assemblea di battito di ieri però la volontà del popolo va rispettata. Ma al di là dell'esito referendario, l'isola, come spiega Nicola Culeddu, ricercatore del CNR, non è attrezzata per ospitare i rifiuti, una ragione decisiva a cui aggiungere quella non secondaria del rischio radioattivo. Le tonnellate di rifiuti ad alta radioattività, che sono quelli residui dell'attività nucleare mai partita dello Stato italiano, sono estremamente pericolose e hanno dei tempi di dimezzamento, cioè dei tempi in cui la pericolosità si dimezza, dell'ordine delle centinaia di migliaia di anni. Le possibilità che l'isola rientri nel discorso nucleare sono scarse, ma non assenti. La SOGIN, società di Stato responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi, l'ha classificata zona gialla, la meno adatta. Una scelta contraria rappresenterebbe, secondo gli organizzatori, un'ulteriore dimostrazione che l'autonomia di cui gode la Sardegna è debolissima.